Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. È da una di queste finestre al secondo piano dell'Istituto Alberghiero di Montoro, che il quindicenne alunno autistico di San Michele di Serino, almeno secondo quanto denunciato ai carabinieri dalla madre, ha tentato di lanciarsi nel vuoto dopo l'ennesimo atto di bullismo subito. Providenziale l'intervento dell'insegnante di sostegno, che ha evitato la tragedia, riuscendo a fermare il ragazzo mentre già era sul davanzale. L'episodio si è verificato venerdì scorso, a darne notizia ieri il telegiornale di Irpinia TV. Nel giro di poche ore il caso è finito, la ribalta nazionale della cronaca. La madre del quindicenne ha raccontato ai carabinieri della stazione di Serino, che da tempo aveva segnalato ai vertici dell'Istituto le moleste anche a sfondo sessuale subite dal figlio, in particolare da una sua coetanea. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Avellino, che questa mattina si sono recati presso l'Istituto di Montoro, per ascoltare come testimoni alcuni alunni e docenti. La scuola sarà anche interessata da un'ispezione ministeriale. I militari questa mattina hanno fatto visita anche alla sede Solofrana del Ronca, ma solo perché relatori in un convegno sulla legalità. Ne abbiamo approfittato per tentare di avvicinare la dirigente scolastica, Lucia Ranieri, doveroso sentire la sua avversione dei fatti. Un'occasione però mancata, perché la preside ha preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti nel rispetto delle indagini in corso, ci ha riferito. Il provveditore agli studi di Avellino, Rosagrano, parla di episodi molto grave e che l'Istituto aveva già avviato un'indagine interna per adottare dei provvedimenti nei confronti dei protagonisti degli atti di bullismo. Il sindaco di Montoro, Mario Bianchino, rivela di aver appreso la notizia dalla stampa. Il primo cittadino non nasconde la sua amarezza e si dice sconcertato. Ma sicuramente rispetto a questa notizia noi rimaniamo sempre sconcertati quando riguardano le nostre scuole, i nostri ambienti, alla data del fatto che il bambino sia di altro comune o chi commette l'atto di bullismo venga da altro comune. La scuola, diciamo sempre, è la prima agenzia formativa dei nostri ragazzi quindi quando ci sono aspetti o problematiche di questo tipo credo che chiudersi o nascondere il problema non giovia a nessuno e in particolare in primis agli stessi bambini. Quindi il comune, la scuola, i nostri presidi sociali devono essere puntuali e punto di azione a tutela di queste situazioni. Quindi credo che si possa fare meglio e di più anche quando ci sono questi aspetti.